Ciao a tutti, oggi un video di consigli letterari, un doppio consiglio letterario, ispirato in realtà dal fatto che questi due libri li ho letti grazie all'ennesimo ritardo del treno. I treni fanno schifo, lo sappiamo, tutti i pendolari concorderanno con questa cosa, non funzionano mai, sono sempre soppressi, in ritardo, insomma un grandissimo disagio. E tutta Italia è paese, praticamente. Però, 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 ho deciso di guardarci il bicchiere mezzo pieno per una volta, senza lamentarmi come un ottantenne su Facebook. E pertanto il fattore positivo è che nel viaggio di treno di oggi, ovviamente disastroso come al solito, sono riuscito a portare a termine due letture che io ritengo estremamente meritevoli. Quindi due libri per pendolari arrabbiati, due libri che sono delle vere e proprie chicche, due grossi consigli di lettura, che sono contentissimo di consigliarvi, e che allo stesso tempo, in un modo o nell'altro, hanno anche qualche analogia. Soprattutto, in realtà, l'analogia più grande è il racconto di varie vite, se vogliamo. Il primo è un romanzo, il secondo invece è una graphic novel. Il romanzo in questione è Luce d'estate ed è subito notte. È un'uscita iperborea, un libro che dovevo leggere da una vita, considerato uno dei must della casa editrice, ad opera di John Kalman Stephenson. Questo romanzo ce l'ho da eoni nella mia libreria, e solo recentemente ho deciso di leggerlo, finalmente. Mi aspettavo effettivamente un grande romanzo, e diciamo che la bellezza è stata confermata. È un libro che sono stato veramente felice di leggere. Veramente felice soprattutto per la scrittura, che io ho trovato estremamente bella, matura, poetica, visionaria. Il romanzo si basa, è uno di quei romanzi di tipo corale, nel senso che si basa sul racconto di più vite, tanto che la struttura di questo romanzo può ricordare una sorta di raccolta di racconti collegati tra di loro, in un certo senso. In realtà è un romanzo molto fluido, sembra quasi raccontare la vita di un paesino, che effettivamente è il suo racconto, ma lo racconta attraverso come se ci fosse questa telecamera fluida, quest'occhio fluido dello scrittore, che penetra tra una finestra e l'altra delle case, per dire. E la cosa bella di questo romanzo è proprio il mostrare come le vite più banali, molto spesso, sono straordinarie, esattamente come lo sono quelle straordinarie già da primo impatto. Anzi, molto spesso le vite apparentemente banali nascondono degli aspetti inaspettati, degli aspetti strani. Tutti noi avevamo le nostre stranezze e quando vengono scoperchiate, in un certo senso, testimoniano l'unicità di ciascuno di noi. Questo romanzo è stato come entrare proprio nelle vite di una miriade di personaggi. È stato molto bravo Stefansson anche nell'orchestrare questi tanti personaggi che lui riesce a mettere in scena, rendendoli uno più umano dell'altro. Non è uno di quei romanzi in cui ci si perde tra i nomi, nonostante i nomi siano in islandese, quindi una lingua a noi lontana e ostica, per dire. È stato molto semplice riuscire ad empatizzare con tutti i personaggi e a seguire le loro vicissitudini che parlano proprio di umanità. in questo paesino islandese immerso nel nulla con 400 abitanti e nessuna chiesa, nessun cimitero. Vivono proprio nel nulla e allo stesso tempo hanno questa magia del vivere. Quindi ci si raccontano tantissimi temi qua dentro. Si racconta la solitudine, la morte, la depressione, ma anche tematiche gioiose, la scoperta dell'amore, l'amicizia, la crescita. È un libro che affronta gli aspetti e i sentimenti positivi o negativi che attraversiamo tutti nella vita. e lo fa attraverso personaggi che rimangono veramente impressi. Non tutte le storie raccontate sono riuscite allo stesso modo, nel senso, cioè, veramente va di interesse, perché raccontando una miriade di vite ce ne sono alcune più di impatto di altre. Tuttavia, il romanzo in sé, la qualità del romanzo è altissima, soprattutto per il fatto che è equilibrata da una scrittura carica di poesia. È come se fosse una poesia di 300 pagine, ma mai esagerata, mai con fronzoli, per dire. È una scrittura molto raffinata, evocativa e visionaria, che proprio ti immerge in questo piccolo paesino colmo di vita. E quindi ve lo straconsiglio. Questa è un'ottima lettura che sono stato felice, finalmente, di recuperare. La seconda lettura parla ancora, in un certo senso, di vite e lo fa sotto una prospettiva, diciamo, diversa. Il libro in questione è La ragazza nello studio Munari di Alessandro Baronciani, che tra l'altro è un famosissimo illustratore, ad esempio, celebre per aver curato le copertine di tantissimi gruppi indie. Mi viene in mente gli altri, per dire, di cui Baronciani faceva anche parte. E Baronciani è anche un famoso fumettista. Le ragazze nello studio Munari, diciamo che è uno dei suoi libri più iconici, rimasto per tantissimo tempo fuori catalogo e solo recentemente ripubblicato da Bao in una nuova edizione rimasterizzata, tra virgolette. Io subito sono rimasto incuriosito da questo libro, soprattutto per il fatto che c'è un continuo rimando a Bruno Munari, che è un artista, designer fondamentale, di cui vi ho anche fatto un video, quindi se siete curiosi andatelo a recuperare un video sui suoi libri. Bruno Munari è effettivamente il motore di questo libro. Questo libro che in realtà racconta l'incapacità di crescere, di comprendere le relazioni con gli altri, di schematizzare le relazioni con gli altri, ma allo stesso tempo di essere incapaci di legarsi. È la storia di quest'uomo che ha più relazioni con più donne contemporaneamente, forse per soddisfare una certa solitudine interiore. In un certo senso lui ha la necessità di ammassare gli affetti. Ed è molto interessante come l'arte di Munari, in questo progetto ambizioso, il linguaggio rivoluzionario di Munari, in un certo senso sia sempre parallelo alle storie di relazioni raccontate qui dentro. Anche da un punto di vista tecnico, oltre che narrativo. Ad esempio, questo tipo di inserti in lucido è tipico di Munari, ad esempio per raccontare la nebbia. Ad esempio uno dei libri più famosi di Munari è La nebbia di Milano, dove lui usava il lucido per dare l'idea della nebbia. È un libro che sa mischiare narrazione e arte, con tantissimi omaggi, rimandi. Ad esempio c'è un rimando anche che ho adorato ad Antonioni, Il deserto rosso, che è uno dei miei film preferiti. Ad esempio qua le pagine si colorano, proprio perché Antonioni, con quel film, il suo primo a colori, aveva reso il colore espressivo. Quindi anche col suo primo esperimento era riuscito a dare espressività al colore, e a spingere alle potenzialità della comunicazione. Quindi ho trovato molto interessante che ci fossero parallelismi con lo spingere la comunicazione all'eccesso in un contesto in cui la comunicazione non arriva. Il contesto reale è quello di un uomo incapace di comunicare con le donne, o comunque comunicare nell'amore, più che con l'altro sesso. E dall'altra parte invece abbiamo l'eccesso di comunicazione, la perfezione della comunicazione attraverso l'arte, la letteratura, il cinema. Se devo proprio trovarci un difettuccio che per me non dà fastidio è che l'ambiente descritto è estremamente hipster, dai riferimenti culturali a proprio i personaggi che vengono rappresentati, le ragazze che vanno a prendere Dostoevsky nella libreria antica, lui che dorme in una libreria. Insomma, il contesto è quello un po' alternative chic. Però a me, ammetto, non ha dato alcun fastidio, soprattutto perché il libro è una piccola opera d'arte che io ho apprezzato tantissimo. Vabbè, il tratto di Baronciani è molto noto. Se conoscete l'autore sicuramente vi sarà riconoscibile dalla prima occhiata. Però io ho trovato molto interessanti le sperimentazioni con i colori, le sperimentazioni tecniche che rimandano proprio a Munari. E anche, ad esempio, ce ne sono alcune usate bene di parallelismi, come con i libri leggibili. I libri leggibili di Munari che sono dei libri che non puoi leggere e che vengono associati proprio alla lettura delle persone, alla lettura delle emozioni. Ho trovato un libro molto bello, questo. Se conoscete Munari non potete lasciarvelo scappare. Per tutti gli altri è un'occasione per leggere una graphic novel molto diversa dal solito e allo stesso tempo conoscere due grandi artisti, due bravissimi artisti, Baronciani come illustratore e Munari come iconico designer. Assolutamente. E niente, questi sono i miei due consigli di lettura dal pendolare arrabbiato. Fatemi sapere se li avete letti o non li avete letti, vi interessano o non vi interessano. Vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione, alla prossima. Ciao ciao.